Amici e amiche di Radio Nostalgia, bentornati. Questa mattina fusilli, cipolla di treschietto o se non ce l'avete qualsiasi altra cipolla, basta che sia dolce e salsiccia. Pasticciando con il bando Ingredienti per 5 persone Mezzo chilo di fusilli, 2 cipolle, una bella salsiccia, spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, peperoncino e anche qualche pomodoro secco sott'olio. Prendiamo una pentola, acqua, portiamo a ebollizione, versiamo il sale, cuociamo i nostri fusilli. Nel mentre, spicchio d'aglio in padella, olio extravergine d'oliva, peperoncino e facciamo rosolare la nostra salsiccia. Mettiamo i pomodori secchi sott'olio tagliati a striscioline e sfumiamo con un pochino di vino bianco. Dopodiché, in un'altra padella, olio extravergine d'oliva, cipolla tagliata a julienne, aggiungiamo dell'acqua per far appassire ulteriormente le nostre cipolle. Uniamo i due composti, quando i nostri fusilli saranno cotti andiamo a scolare e saltiamo nel nostro sugo. Noi ci sentiamo ogni sabato alle 10.30 su Radio Nostalgia e sui social. Alla prossima! Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il Bando.